Buona tutti burloni sono arci e benvenuti in questo nuovo video delle build battle insieme a marco siamo Allora prima che diciate marci oggi dovevo uscire il troll perchè non hai caricato il troll allora oggi dovevo caricare la challenge La blindfold quella che ho fatto con eren e martine poi c'era marco l'intruso Solo che ragazzi ho perso dei file di registrazione che poi ho ritrovato troppo tardi e non ce l'avrei fatta a caricare il video Quindi fatemi sapere lo stesso con un bel mi piace se volete comunque la challenge o domani o nei prossimi giorni magari superiamo I 1500 ragazzi oggi vi chiedo di scrivere una cosa nei commenti sapete che nelle build battle praticamente esce la parolina che dovete disegnare Voi sotto nei commenti scrivetemi tante cose che vorreste vedere nelle build battle tipo tavolo pc Luce così ragazzi le aggiungeremo a questa versione di le build battle ora non dilunghiamoci troppo e ci vediamo in partita Oh La 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 Spongebob Oh mio dio Come lo faccio a Spongebob Un fact come solo faci Spongebob Un fact che era proprio su una pagina di Twitter No non si può la Marco Ahà Allora ragà Allora ragà ubbiamo fare Spongebob No a mai non l'ho fatto ma non l'ho cercato Marco jadi Allora Facciamone viene scarapin e betti aïmolo più o meno in mezzo Quindi si fa così Però la vet La vet spongebob forse è meglio Forse è quella vet per le gambe Allora le gambe le facciamo così Forse è un pochino più in centro Marco stai facendo un bordello della madonna So che stai cercando su google Quindi non cercare su google Ora sei troppo basso Allora Qui bisogna fare una cosa Qui c'è il tacco in realtà Vabbè io lo facciamo tipo così Io non so come farlo Ma che schifo Vabbè io lo faccio sciallissimo così Perché che schifo così fatto Non mi piace Ma io tipo lo faccio a fan art A fan art? E come vuoi fare? E Marco come lo faccio? Scusami Spiegami come farlo Non mi ricordo manco come è fatto Tipo c'è il marrone sotto Faccio la sauce No C'è un marrone chiaro Ecco tipo il light grey Non mi ricordo come C'è mi ricordo che c'è tipo il E non mi ricordo come è fatto C'è so che c'è i pantaloncini I pantaloncini marroni E ok E quello ci siamo Poi cosa che c'è sopra? C'è la camicetta bianca Sì 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 Marco Che immagine hai preso da google? Non ho preso nessun'immagine Marco non ti crede nessuno È vero Marco non ti crede proprio lo guardavo Sì sì ma non ti crede nessuno lo stesso Ma che palle Marco guarda che ti stai tipo Buttando merda da solo Perché tutti sanno ormai che Ma smetti la sceva Oh il mio ci sta però eh Oh la banca Oh la banca Chi sta ci sta Ma insomma Non so quanto farlo alto poi Quello è il problema E tanto io non ci sto coi tempi Quindi Sempre Ma tanto Vabbè niente Non diciamo niente Ma dici Aspetta Marco Aspetta che qua Che qui questo Spongebob qua Non me la dice giusto Non me la dice giusto Non me la sta dicendo giusto Ok Ok Forse è troppo No forse ci sta Però ci sta Spongebob Non mi era mai uscito Proviamo a farli Allora i denti Ce l'hai lì in fuori Giusto Quindi facciamo così E facciamo così Ci sta Non so come farlo Marco Però ok Aveva anche la cravatta Spongebob No la cravatta Io l'ho messo Ok Quattac Tac 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 Che schifo Marco Che schifo Fa schifo Il mio si Il mio si fa schifissimo Il mio ci sta invece Perché non ho ancora fatto la faccia Somma Insomma Il mio è un po' un insomma Ah non hai fatto la faccia Anche me il sotto ci sta No no Sì sì sto facendo solo sotto Per adesso Sì io non lo faccio in 3D Nel senso È in 3D Ma non è in 3D Cioè Sto provando a farlo in 3D Capiamoci no Sì sì ho capito Allora Non mi ricordo Gli occhi ce l'aveva verdi O blu O blu O blu Verdi Falli Faccio ciano Li faccio Ciano Che brutto Che brutto È abbastanza Boh credo si capisca Sia Spongebob Però È un po' un fallimento Sì C'è la stairs Vediamo se C'è di buono che sfoggi Avendo la faccia quadrata Non puoi sbagliare Sulla grandezza Vorrei fare tipo una cosa del genere Vediamo se riesco a farlo Oh mio dio 1 minuto e 25 Ma cazzo faccio finirla Come 1 minuto e 25 No non l'hai detto veramente Eh sì Come faccio? Oh Il mio ci assomiglia Ci assomiglia? Sì più o meno Sì dai ci assomiglia Devo fargli solo le maniche Che culo Cazzo le maniche è vero 50 secondi Non ce la farò mai Marco Il mio è È orrendo È orrendo E io non ce la faccio mai finirlo Mai nella vita proprio Mamma mia che brutto Marco Che brutto Perché 30 secondi? Marco Marco È bruttissimo il mio No dai La cravatta sembra il pene Sembra Ma no Ti giuro Marco È qualcosa di bruttissimo 20 secondi Farò ancora le braccia e gli occhi E io devo fargli le Come devi far tutto proprio te? Sì Io devo fargli le cose arancioni Mamma mia Diciamo che ci sta Diciamo che ci sta No no Non ho fatto Ma perché Ma che schifo E ho provato a farlo Però alla fine ero nel punk Guarda Se non mi voti Epico dopo C'ha anche le braccia storte Guarda Una più sotto Una più sotto Guarda che bruttissimo È un disastro Oddio Io voglio vedere il tuo Questo qua Ha fatto Spongebob Natale Perché Ci sta È carino È caruccio Dai Li metto brutto Ok dai Ok No Gli ho messo brutto Io sono felice Ma gli ho messo ok L'elva Stefano Gamer Incredibile Questo Oddio Ma Dov'è Spongebob? Io voterei anche bruttissimo Gli ho votato bruttissimo Qua Mindbob Ha fatto la La pixel Ci sta Mi piace Ci sta Io metto Non è brutta Io metto ok Io metto È bello È bello È bello Sono merita No Uno tipo ha votato Leggendario No dai Vabbè ci sta È bello L'ha fatto in acqua È bello Per essere belle È vero L'acqua Cavolo È l'acqua Questo Anche Questo Gli assomiglia Questo Gli assomiglia Ok Io metto Bello Anche Anche Questo Merita Più di prima Secondo me Non lo so Sai Quello di Mindboom È proprio Bello Giuseppe Questo Giuse No Questo Non mi piace Questo È una cosa Un po Brutto Per assomigliarci Non è che Non ci assomigli Però io metto brutto Dai Non ci assomiglio Dai Almeno l'impegno Marco non ci assomiglio Tommy Beh Non è malaccio Le calze Queste cose Non è che ci assomigliano Somma 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 Brutto Dai Mamma mia Oddio Adesso 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 Coso Ho votato bruttissimo Mi dispiace Io voglio creare un nuovo voto Il brutto Il bruttissimo Eh questo è un po' pesante Un po' Questo è un pene Una tavoletta del latte Non so come definirlo Il mio ci sta Il mio ci sta Confronto ai vostri Questo qua ha fatto il naso enorme No questo qua è orribile Bruttissimo Io non gli ho fatto il naso Marco Io boh Neanch'io Mi sembra Marco non vorrei dire ma Cioè Lotto di marci Bello 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 È molto bello Solo bello Mi ha fatto la cravatta con la redstone Solo bello Mi sembra davvero un pene Ma come solo bello Mi aspettavo un bellissimo univio Non mi piace la spugna Eh è fatto di spugna Non mi piace la spugna È fatto di spugna Eh no Non mi piace la spugna Pazzesco Pazzesco Bruttissimo Ragazzi ve lo dico che Se non vinciamo basta Finiscono le mie Bilba Dai ma non puoi votare solo bello Era fantastico era Era bellissimo Io ti ho votato addirittura Epico No bellissimo Ti ho votato bellissimo io Ti ho votato anch'io bellissimo Non ci credo mai nella vita Eh non ci credo E perdiamo questo tempo Vincitore Vincitore Hai perso ma Sei arrivato terzo Io sono arrivato quinto Ha vinto chi Spongebob di Natale Però ci sta Ha fatto le scarpe belle Ci sta è vero Hai ragione Vabbè ragazzi Direi che per questo video è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Vi lasciate un piacere Un piacere Un commento E ragazzi Mi raccomando Scrivete le parole Nuove magari Che volete vedere Non so Tipo Largo Ponte Terra Portoponti Rosa Margherita Bordello Banca Banche Le banche 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 Basta che fai esplosione Fuoco E quindi ragazzi Ci vediamo domani Con un nuovo video Sempre alle 18 17 20 Bordello Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti